Amici di Milan.soccer, buongiorno e benvenuti a questo nuovo appuntamento di Terrazza Milan, appuntamento quotidiano con i rossoneri. Oggi vi faccio vedere, siamo in una splendida terrazza in Nord Italia, non dico la città, ma in Nord Italia, quindi è la giornata della svolta. È una giornata molto, molto, molto importante, ma ovviamente non tanto, è solo per la partita, ma perché poi diciamo che le ultime due ci darebbero la possibilità in tutto e per tutto di controllare la situazione, qualora dovessimo vincere evidentemente in quel di Verona, perché il nostro micro bonus, che è appunto la possibilità di arrivare a pari punti con la seconda squadra di Milano, ci darebbe comunque quella soddisfazione che in questo momento non diciamo. Ieri, come è preannunciato nel nostro video di ieri, sono uscite fuori voci, voci destabilizzanti, diciamoci la verità, una su tutte, che gli animalisti, poi era una striscione, avrebbero attaccato Ibrahimovic per il fatto che lui uccida gli animali come cacciatore, eccetera, eccetera. Io personalmente sono contro la caccia e sono a favore degli animali, quindi condivido, diciamo così, il non sostegno a questa forma di barbarie, ma voglio fare adesso un censimento su tutti i calciatori che fanno caccia e pesca, voglio verificare quante persone hanno indicato quella striscione e la necessità di metterlo in prima pagina sulla gazzetta dello sport. Diciamo che in questo senso questa forma di, come posso dire, sì, di destabilizzazione è una forma che in tutto e per tutto avevamo previsto e che non è terminata qui. Vediamo evidentemente quello che succede. Intanto, ieri il mister ha parlato, ci sarebbe l'ipotesi che Salema Kerr e Krunic possano dunque scendere in campo. C'è una frase che ieri mi ha incuriosito di Pioli, e cioè che lui, e non solo lui, Leao giocherebbe indifferentemente a sinistra oppure a destra. Quindi è chiaro che, avendo preso le misure, molte squadre sulla fascia sinistra, per quanto concerne Teo Hernandez e Leao, già tante volte Leao si è spostato sulla destra, probabilmente oggi o è un depistaggio, ma poi si verificherebbe subito, o piuttosto oggi Leao si potrebbe, ancora di più di come ha fatto altre volte, spostare sulla destra. Spostare sulla destra, non che verrebbe schierata a destra, ma spostare sulla destra con delle numerose incursioni. Bene, al di là dell'aspetto tecnico o dell'aspetto tattico, quello che mi preoccupa è il comunicato stampa che è uscito ieri dalla penna dei tifosi del Verona, nei quali dicono il vostro settore è la Curva Nord, voi milanisti avete il settore ospiti, quindi non vi azzardate, non vi azzardate. Tantissima gente sta scrivendo sui social, io vengo con mio figlio, devo aver paura perché ho preso la tribuna, ho preso gli istinti, eccetera, eccetera. Ma è possibile scrivere un comunicato del genere in cui con intimidazione si dice alle persone attenzione se uscite da quell'area potrebbe succedere qualsiasi cosa perché lì tradizionalmente ci sono i tifosi del Verona. Ora, non è che i tifosi del Verona non siano stati sotto la lente di ingrandimento per altre cose come quando suggerirono a Putin le coordinate per attaccare Napoli. Io penso che a un certo punto possa anche intervenire la magistratura o comunque la questura in generale perché oggettivamente non si può assistere a una cosa del genere. Nel 2022 con tanto di commenti, ovviamente di stampo fascista, quindi sinceramente mi dà molta noia e molto fastidio. Detto questo, penso solo alla partita, penso solo a Verona, penso solo a te, amore mio caro Milan e soprattutto oggi, fatemelo fare, un saluto ad Antonietta, la mia mamma, oggi è la festa delle mamme, tanti auguri mamma, tanti auguri a te, no, quello è il compleanno, tanti auguri mamma, a tutte le mamme che ci seguono, se qualche mamma ci segue, se invece non ci seguite, peggio per voi, perché mia mamma ci segue e quindi per me è importante che ci seguo Antonietta, baci ad Antonietta. Detto questo, ieri c'è stato il derby del Milan femminile. Il derby del Milan femminile è stato vinto, come abbiamo detto nello short che sono, diciamo di ieri sera, è stato vinto dalle ragazze rossonele per tre reti a zero, una partita senza se e senza ma, senza storie, la Juventus è diventata campione d'Italia, il Milan è arrivato terzo, seconda la Roma che ha imposto un 8 a zero a Sampdoria, brave comunque le ragazze, le ragazze, le ragazze sono state brave, sono state brave, adesso vedremo perché anche nel Milan femminile ci sarà un po' di rivoluzione, quindi partiamo oggi con una buona notizia, il Milan zero a tre, rimessi dove è giusto rimetterli, le donne le hanno rimessi dove è giusto rimetterli, ora tocca a voi ragazzi, questa mattina il video lo faccio un po' più breve, perché come avete notato da tanti movimenti l'ansia è già presente, però è un'ansia rilassata, avete mai sentito qualcuno che ha un'ansia rilassata? ecco io ho un'ansia rilassata, pertanto occhio al tempo perché pioviccica, importante anche per il campo, per il resto non ci resta che aspettare, baci da terrazza Milan, ciao!